Ciao! Come state? Spero bene. Il video di oggi sarà un video un po' più semplice e spontaneo, anche un po' più breve. E sarà un video in cui farò dei suoni con vari oggetti che alcuni mi avete richiesto voi e così ci possiamo rilassare assieme. Quindi spero che non ci siano troppi rumori. La vicina di sotto tiene la tv accesa giorno e notte a palla, quindi spero davvero non si senta. Allora, per prima cosa userò questa boccetta che spruzza, non mi viene il nome, che contiene una miscela di acqua e olio essenziale di lavanda, che è estremamente rilassante e calmante. Quindi creerò un po' di atmosfera. ... poi seconda cosa ho questo cuscino a forma di cuore che fa un suono super rilassante e poi anche toccarlo così è molto soddisfacente tutte le persone che lo toccano mi dicono che è davvero piacevole allora lo metto qua che magari puoi immaginare che lo sto mettendo dietro al tuo collo per stare più comodi ok ok e allora per prima cosa come oggetto intanto ho questa tazza mi verserò un po' di acqua calda per farmi un tè anzi una tisana di camomilla e adesso metto l'opera una bustina tra l'altro adoro il suono della carta e delle bustine di carta ok 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 potrei andare avanti un sacco ahhh che bel suono ok 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 super rilassante super rilassante ah c'è un odore stupendo la lascio in infusione un po' allora inizio con questo grinder che a molti di voi è piaciuto tra l'altro questa è stata una settimana un po' strana perché intanto ho filmato due video in cui facevo vari suoni col grinder e altre cose del genere ma non l'ho postato perché non ero contenta della luce e nulla mi sono un po' innervosita e quindi alla fine non ho postato perché volevo postare ieri sera però vabbè e nulla quindi c'è stato questo e poi ho passato non so neanche quante ore a completare l'iscrizione al mio corso di laurea magistrale e ci ho messo veramente un sacco tra tutte le varie procedure burocratiche documenti quindi è stato un po' stressante e quindi questo per dire che aspettavo il momento di fare questo video per rilassarmi un po' anch'io e fare una pausa e rilassarmi con voi quindi grazie di essere qui e grazie di tutto il supporto che mi date alcuni commenti che mi avete fatto in cui mi fate domande ad alcuni non ho risposto perché stavo pensando di fare un video in cui rispondo un po' a tutte le vostre domande una sorta di Q&A non so se l'idea vi piace però fatemi sapere e nel caso se avete domande di qualsiasi tipo fatemele pure e e quindi se vi piace l'idea poi farò un video apposta per questo comunque a proposito di luci sto cercando delle luci appunto migliori e dovrei ordinarle a breve appena scelgo quelle che voglio quindi spero che poi sia anche più gradevole da guardare perché so che a volte ho una luce un po' gialla e vorrei fosse migliore quindi spero che a breve si possa vedere e inoltre se avete delle richieste di video che volete che faccia fatemele pure tra l'altro quelle che mi avete fatto le ho segnate non è che me le dimentico semplicemente ci tengo ad organizzarli bene i video che sono richieste fatte da voi quindi pian piano le farò tutte non è che Ok, assaggio la mia tisana Ok, per finire questo semplice video userò questo pettine che ho già usato in alcuni video e il suono che fanno le setole è bellissimo e mi pettinerò un pochino perché oltre a essere rilassante per me spero sia anche rilassante da guardare almeno a me piacciono molto i video dove si pettinano le persone quindi spero che sia stato gradevole e vi prometto che farò a breve altri video di roleplay e le cose che mi avete chiesto quindi ci vediamo presto grazie di tutto ancora buonanotte buonanotte